Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono vestito uguale perché, diciamo, le sto girando in conseguenza. In questo video, come avete detto d'artito, vi vorrei dare qualche consiglio, video come avete detto d'artito, vi vorrei dare qualche consiglio, qualche trucco su come mantenere il rapporto di coppia vivo. Allora, secondo me è molto importante mantenerlo vivo perché dopo un po' può diventare monotono, 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 come si dice? Monotono, ha capito? Può diventare quella cosa là e quindi a lungo andare o tu ti stanchi o si stanca il partner. E con questi trucchi, con questi tip e trick che vi do, spero che il vostro rapporto con il vostro partner possa essere il più duraturo possibile. Come stavo dicendo, possa durare il più lungo possibile e iniziamo. Allora, ho diviso questa mia teoria in tre punti. Il primo, secondo me è molto bello, è importante usare i sex toys. Cioè, perché, diciamo, il mondo dei sex toys, come gli altri mondi in generale, con la tecnologia, hanno fatto passi da gigante. E molti mie amici etero, cioè, perché, nel senso, molte ragazze vengono da me dicendo che quando fanno le cose con il suo uomo, cioè, ragazzi, intendo amiche, non è che una sconosciuta viene da me e dice, guarda, quando lo facciamo io non godo, no? Però molte amiche mie mi dicono che quando fanno sesso o cose così, non godono. Cioè, o fanno finta di avere orgasmi o cose così. Quindi, eppure, diciamo, alcuni mie amici etero mi chiedono, ma come mi faccio a far godere bene la mia donna? E quindi io consiglio sempre l'utilizzo dei sex toys, perché, come ho detto prima, hanno fatto passi e passi enormi e passi e passi avanti. Cioè, non è che il sex, cioè, magari uno quando pensa al sex toys pensa solo al dildo, però hanno fatto passi e passi avanti. E adesso vi spiego. Infatti, cioè, voglio dividere le cose. Un sex toys per far godere bene la donna e sia l'uomo durante il rapporto è il cock ring. Che cosa sarebbe il cock ring? Praticamente un anello che tu metti, qua c'è l'uccello, no? Qua ci sono le uova dell'uccello e tu metti dove stanno le uova dell'uccello. Però io consiglio quello che vi, cioè, hanno fatto, ci sta uno che vibra, no? Che tipo, è un coso di plastica e qua c'è una cosa che vibra. Così, diciamo, durante l'atto, quando, diciamo, i due corpi si incontrano, essendo che che cosa vibra fa godere sia la donna che l'uomo. Quindi quello è il sex toys che consiglio, è il sex toys che consiglio quando magari una donna ha difficoltà a godere. Invece se a una donna gli piace fare la dominatrice e l'uomo ci sta, io consiglio lo strap-on oppure, non so se avete mai visto, tipo, quelle specie di, non sono dildo, però quelle specie di cose che siano, che siano, tipo, tanti tarzanelli attaccati, no? Che tipo, c'è una palla, c'è una palla, c'è una palla, e quello glielo infili sempre dietro al tuo uomo. Che, secondo me, capito, è bello sperimentare in generale, e se una donna è dominatrice, gli può piacere, capito, vedere il suo uomo sottomesso. Cioè, tipo, se ci sta, capito, gli metti pure il windsai o cose così. Però io, capito, se una donna non gode, gli consiglio il cock ring, quello con la vibrazione. Se invece è dominatrice, gli consiglio lo strap-on, o anche dildo, o quel, capito, o quelle specie di dildo che a me non mi viene il nome. Invece, uno dei miei preferiti che fa super ridere, è tipo, c'avete presente l'invisalign? Invisalign? Non so come si chiama. Che tipo, tu te lo metti qua, è un po' scopo, però capito, tu te lo metti qua sotto, e c'ha sempre qua una palla, tipo, una cosa che ruota, che vibra. E quello è super super figo. Poi, il secondo punto per mantenere il rapporto di coppia vivo è il travestirsi. Cioè, può sembrare penale, ma è una cosa che può aiutare, perché ognuno c'è il proprio fetish, capito? Nel senso, magari, richiare delle scene come quella dell'infermiera o del cassiere. Cioè, a me i miei preferiti sono i pompieri. Cioè, tipo, io penso se il mio ragazzo mi si presenta a vestito da pompiere tutto oliato, è un bel vedere, no? Quindi, il secondo punto per mantenere il rapporto di coppia vivo è, capito, è questo, è quello di fare dei travestimenti e fare un po' di giochi di ruolo. Cioè, che ne so, che vi posso dire? Magari, se il tuo ragazzo ha un videogioco preferito, tu ti travesti da una patagonista di quel videogioco, o sì, tipo, se c'è qualche fantasia per dirti, o gli piace l'infermiera, o l'infermiere, o il pompiere, come a me, o il poliziotto, col manganello. Però, niente, questo era il secondo punto per mantenere il rapporto di coppia vivo. Il terzo punto è il mio preferito, cioè, se è il mio preferito, penso, sì, diciamo, è giocare sul fetish del tuo, non so se dire fetish, se è giusto fetish, però, cioè, giocare su cosa, cioè, sulle cose, non so come dire, sulle parole verbali che creano piacere al tuo ragazzo. Cioè, a me fa ridere, e magari è per questo che c'è una vita, tra virgolette, trist, cioè, magari è per questo che c'è una vita, tra virgolette, sfigata, perché a me è una cosa che mi, che tour me on, cioè, che mi fa, che mi fa piacere, e quando un ragazzo bestemmia, cioè, cioè, capite, per questo dico, cioè, avevo fatto tirare certi santi che per questo c'è una vita, tra virgolette, sfigata, cioè, tipo, mi odieranno per le bestemmie che ho fatto tirare. Però ho capito, nel senso, è giocare, cioè, non so come si diceva, in italiano, cioè, a me non mi viene in italiano, però ho capito, a giocare su, su queste parole che creano eccitazione al tuo partner, cioè, io, tipo, c'avevo questo, che non ci ho mai fatto niente, per cui, ogni volta che mi guardava, bestemmiava, tipo, diceva il mio nome, poi, porco, ahaha, porco, ahaha, porco, ahaha, e io trovavo una casa super, super sexy, che poi me la sono portata avanti, cioè, io, quando uno bestemmia, tipo, ah, porco, ahaha, sto per, non so se si può dire, sto per venire, è una cosa che mi piace un botto, capito, quando sento la bestemmia, tipo, porco, ahaha, e poi è una cosa legata al sesso, è una cosa che mi piace a me. Il terzo punto è, è giocare sulle parole che creano piacere. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se mai metterete in atto questi, questi punti. Diciamo, io ho fatto questo video per, io tramite questi consigli, spero che il vostro fuoco di paglia non si spenga mai, ma anzi, che rimanga sempre vivo nel corso degli anni. Capito? Magari le sperimentate tutti, sperimentate tanti set style, sperimentate tanti costumi, o tante parole che creano piacere al vostro partner. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se mai lo metterete in atto, lasciate sotto qualche commento, dei mi piace per... lasciate, capito, qualche commento, mi sono un attimo distratto, perché stavano abbastanza della gente sotto, erano particolarmente carini. Però, capito, fatemi sapere qualche altro consiglio, e cose così. Io spero che questo video vi sia piaciuto, e un bacio. Ciao!